Ed eccoci, benvenuti in diretta su Le Fonti TV per questo appuntamento da Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, centro della finanza milanese e non solo, ma anche il luogo d'elezione, ormai lo sapete, per le nostre tavole rotonde, i nostri dibattiti che ruotano attorno alle tematiche più importanti dell'attualità politica ed economica e quest'oggi, questa mattina insieme ai nostri ospiti parleremo di un argomento molto caldo, quello che riguarda l'evoluzione del mondo del lavoro, un'evoluzione che a partire dalla pandemia e nel periodo post-pandemico ha avuto un'accelerata. Negli anni scorsi abbiamo puntato la nostra attenzione su alcune parole chiave come smart working, come quite quitting. Ebbene, questa mattinata invece la dedicheremo per approfondire una nuova tendenza legata alla settimana corta e alle nuove forme di organizzazione del lavoro. Vedremo se i casi italiani di Luxottica, di Lamborghini, Intesa San Paolo, sono degli esperimenti o se invece possono lanciare una vera e propria tendenza anche nel nostro paese che rispetto all'estero, ad altri paesi europei, è un po' indietro in questa corsa alla flessibilità. Ebbene, ne parleremo con i nostri ospiti partendo dal professor Luca Solari, ordinario di organizzazione aziendale presso l'Università degli Studi di Milano dove dirige anche il Master of Science in Management of Human Resources and Labor Studies. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Buongiorno. L'avvocato Luca Failla, founder and managing partner dello studio legale Faillan Partners. Buongiorno, grazie. E poi abbiamo Gianmarco Fissore, Labor Law and Industrial Relations Manager in Lavazza Group. Buongiorno. Buongiorno. E il dottor Massimiliano Santamaria, HR Metrics and Innovation, People for Innovation. Grazie, buongiorno. Bene, con le vostre cariche ho avuto anche modo di fare un po' di esercizio della lingua inglese, le ho azzeccate tutte, almeno spero. E da qui possiamo introdurre la tavola rotonda. Abbiamo detto nuove tendenze legate alla flessibilità, in particolar modo questo argomento, questo tema della settimana corta di cui ormai parliamo molto spesso nelle ultime settimane. E se fino a qualche anno fa era impossibile pensare di non penalizzare il salario a un fronte di una riduzione dell'impegno lavorativo, oggi invece tutto questo sembra poter diventare realtà. Abbiamo detto che nei paesi esteri è un esperimento che è già preso piede. In Italia dobbiamo mettere un asterisco a tutto questo, anche perché il nostro tessuto economico, e mi rivolgo al professor Solari, costituito in particolar modo da PMI, da piccole e medie imprese, fatica un pochino a stare al passo, anche perché magari mancano proprio delle risorse. Invece perché, le chiedo, è importante parlare di settimana corta perché può essere uno stimolo, un motore per lo sviluppo? Ma ci sono diverse ragioni, proviamo ad analizzarne un paio. La prima è legata alla necessità che il nostro paese ha da tempo di recuperare su quelli che sono i tassi di produttività. E sappiamo dalla ricerca che tipicamente chi già oggi lavora a part-time tende ad esibire dei tassi di produttività mediamente più elevati. Quindi da questa prospettiva il passaggio verso un compattamento di quelli che sono le ore di lavoro potrebbe, se gestito in maniera adeguata, favorire quel recupero di efficienza interna ai processi organizzativi che ovviamente un'azione come questa richiederebbe. Poi c'è un secondo tema che è un po' indiretto. Abbiamo sentito come una delle problematiche che il nostro paese sta vivendo in questo momento è il fatto che la redistribuzione dei vantaggi di fatto della dinamica inflattiva non è ancora avvenuta a livello di costo del lavoro e quindi più che costo diciamo valore del lavoro, stipendio. È chiaro che in maniera indiretta qualora ovviamente il compattamento su quattro giorni volesse dire una riduzione delle ore lavorate e questo è un tema importante perché non tutti si stanno orientando in questa direzione, andremo di fatto in maniera indiretta pura parità di dinamica retributiva ad un incremento relativo della retribuzione e quindi andremo a coprire anche questa esigenza. Giustamente tuttavia dobbiamo ricordare che la fattibilità tecnica di una settimana lavorativa corta è legata alla natura dei processi produttivi. Citavi prima il tema delle piccole e medie imprese che è spesso però visto dal punto di vista culturale, io direi che non è solo un tema culturale, è legato al fatto che molte delle PMI italiane di fatto operano su aree che sono aree di trasformazione tecnologica e quindi in quel caso la possibilità effettiva di attivare una settimana corta dovrebbe tenere conto di quelle che sono le revisioni necessarie non solo nel modello organizzativo ma anche nella turnistica dal punto di vista della continuità dei processi produttivi. Certo, quindi anche una questione di struttura oltre che di cultura. Passiamo invece al contributo della legge, della giurisprudenza perché abbiamo detto che le trasformazioni che riguardano il mondo del lavoro sono rapidissime, in continua evoluzione e io le chiedo, Avvocato Failla, se la giurisprudenza è altrettanto rapida e soprattutto in tema di flessibilità di organizzazione lavorativa abbiamo già delle leggi che regolano tutto questo o ne vanno create ex novo? Allora io devo dire questo, meno male che la giurisprudenza non interviene su questo tema perché di solito quando parliamo di lavoro la giurisprudenza significa patologia, si va da un giudice quando c'è un problema quindi io spero che su questo tema, che è un tema di struttura, non si abbia un intervento del magistrato perché significherebbe che avremmo dei problemi. Non ci sono leggi e io sono da sempre un fautore del fatto che meno leggi ci sono, meglio è nel settore del diritto del lavoro, esperienze degli ultimi 10-15 anni ci dicono che ogni volta che c'è una legge che si vuole fare una grande rivoluzione del diritto del lavoro alla fine si fanno dei disastri perché poi alla fine invece di andare avanti si va indietro. Io dico che le leggi ci sono, ci sono già, ci sono degli spazi di manovra enormi ma lo dico da tempo oramai, gli amici e i char, devo dire, mi danno abbastanza ragione ci sono degli spazi di manovra tra ciò che la legge vieta e ciò che si può fare ciò che la legge non vieta è lecito, quindi tutto questo tema della settimana corta è, lo dimostrano gli accordi che sono stati siglati negli ultimi 12 mesi materia, materia assolutamente disponibile dalle parti di buona volontà quando c'è un'azienda che ha la buona volontà, un progetto, un'idea e lo vuole mettere in campo in via sperimentale si siede al tavolo con le organizzazioni sindacali e lo negozia e si trovano i risultati, lo dimostrano gli accordi Lamborghini, Luxottica, Intesa, eccetera, eccetera, eccetera faccio un esempio, si parlava di smart working prima della legge del 2017 le aziende di buona volontà già 10-15 anni fa hanno iniziato a parlare di smart working erano dei pionieri, qualche char veneristico diceva io voglio fare lo smart working, lo guardavano con una faccia come un marziano che arrivava dalla luna quindi non abbiamo bisogno di leggi, ci sono gli spazi di manovra, sì e vanno secondo me raccolti con intelligenza, fantasia e un po' di coraggio ecco, non abbiamo bisogno di più leggi, abbiamo bisogno di più aziende di buona volontà mi piace molto questa dicitura ad opera dell'avvocato Faila e a proposito noi ne abbiamo qua un rappresentante perché in Lavazza, dottor Fissore, mi correga se sbaglio in realtà la tematica della flessibilità e dello smart working non è assolutamente un oggetto di discussione recente perché addirittura i primi esperimenti risalgono al 2017 quindi periodo pre-pandemico, ci avevate visto molto lungo e adesso state ovviamente aggiungendo, implementando anche attraverso l'esperimento dei venerdì brevi ecco, io vorrei che ci spiegasse proprio la strategia complessiva di Lavazza in termini di flessibilità lavorativa Sì, lei ha usato una parola corretta che è strategia noi stiamo andando verso la flessibilità in una maniera organica abbiamo iniziato nel 2017 con lo smart working abbiamo visto un'evoluzione importante siamo partiti nel 2017 con due giorni alla settimana che si potevano fare in smart working in realtà inizialmente era addirittura soltanto uno oggi siamo arrivati a dieci giorni al mese lo smart working per noi è una soluzione mi lasci dire, in alcuni casi è anche imprescindibile per gestire certe situazioni o comunque per i nostri dipendenti è diventato un valore aggiunto proprio nell'organizzazione del proprio tempo di lavoro e del proprio tempo di vita privata lo step successivo è stata l'introduzione con il contratto integrativo del centro direzionale Lavazza per cui la popolazione interessata ad oggi è una popolazione impiegatizia con questo contratto integrativo siglato alla fine del 2022 abbiamo inserito i venerdì brevi i venerdì brevi che cosa sono? Sono 15 venerdì nel periodo tra maggio e settembre di ogni anno in cui i lavoratori abbreviano la loro prestazione di tre ore non lavorano otto ore ma ne lavorano cinque abbiamo iniziato con la sperimentazione l'anno scorso è stato devo dire un grande successo molto apprezzata dalle persone e soprattutto ha avuto un impatto neutro se non in alcuni casi positivo sull'organizzazione del lavoro ovviamente ha avuto anche un impatto positivo per l'azienda da un punto di vista di costi noi ci trovavamo come credo molte altre aziende all'interno di un panorama anche normativo come diceva poc'anzi l'avvocato Failla che alle volte non è che si parli così bene con la realtà del quotidiano per cui noi ci troviamo per esempio con una normativa con dei contratti nazionali che prevedono un gran numero di ore di riposo ferie permessi i permessi in particolare con lo smart working si sono trovati nel tempo a cozzare un pochettino e quindi quando noi abbiamo iniziato a ragionare sul venerdì breve abbiamo iniziato da un presupposto lato azienda cioè ci ritroviamo grazie allo smart working con un gran numero di residui di permessi residui che vedevamo crescere di anno in anno diventando non solo un costo per l'azienda ma anche un'inefficienza per le persone perché ricordiamoci che permessi e ferie sono fatti per essere utilizzati e quindi ci siamo detti perché non destinare una parte di questi permessi ad un'abbreviazione collettiva come possono essere i venerdì brevi ovviamente questo ha generato il progetto ha generato la sigla del contratto integrativo ma ha generato anche dei mancati costi per l'azienda che sono stati reinvestiti reinvestiti sempre nello stesso ambito nel welfare attraverso l'ampiamento delle assicurazioni sanitarie progetti noi abbiamo un progetto in azienda si chiama time to care che va verso le persone va a supportare le persone anche in tematiche legate alla salute legate al tempo libero e quindi abbiamo potuto sostenere i costi e gli incrementi di servizi anche grazie a questa iniziativa complessiva la strategia perché non ha toccato soltanto smart working e venerdì brevi ma siamo andati anche a mettere mano ai permessi ai permessi che rimanevano tra virgolette aggiungendone ma di qualificati noi abbiamo fatto questo ragionamento invece di continuare a ragionare su una quantità di permessi andiamo a ragionare sulla qualità di questi ultimi e quindi abbiamo inserito 16 ore per accompagnare i parenti alle visite mediche 4 ore per portare il cane, l'animale domestico, il gatto dal veterinario 5 giorni di paternità obbligatoria in più siamo andati quindi su una strada che lanciasse un messaggio ossia assolutamente conciliamo vita privata e vita lavorativa ma tentiamo di farlo in una maniera qualitativamente più attenta questo è molto importante il messaggio che lanciate attraverso queste strategie concrete con l'attenzione proprio alla vita del lavoratore al dirà poi del suo ruolo di dipendente abbiamo quindi analizzato con il dottor Fissore che cosa avviene poi all'interno delle realtà lavorative e io mi sposto dal dottor Santamaria per cercare di approfondire ulteriormente questo argomento e dal punto di vista delle risorse umane che sono un po' l'anello di congiunzione tra i lavoratori e le imprese un anello di congiunzione molto importante sempre più importante proprio a partire dal periodo post-pandemico e voi, ecco, Massimiliano avete condotto a questo proposito anche una ricerca sui nuovi trend HR che è andata a colpire 230 realtà tra HR manager e HR director quindi insomma un numero sostanzioso le chiedo innanzitutto se il tema dell'organizzazione lavorativa della flessibilità è effettivamente in cima ai pensieri dei dipendenti che ne sono coinvolti oppure no perché sembra una priorità ormai ne parliamo veramente quotidianamente ma i dati, le ricerche, che cosa ci dicono? Allora, è un tema un po' in controtendenza noi abbiamo fatto questa ricerca è partita alla fine del 2023 ancora ongoing ma abbiamo già siamo in fase di chiusura siamo raccogliendo le code ecco, raccoglio un po' i punti che hanno detto tutti e tre quindi il professor Solari l'avvocato Feilla il dottor Fissore ma da un punto di vista dell'organizzazione ci hanno dato una risposta molto differente è vero che noi abbiamo impostato la survey cercando di dare delle priorità quindi a fronte di X aree tu me ne indichi tre ma quella dei nuovi modelli organizzativi non è stata o è stata selezionata pochissime volte perché cos'è che ci hanno chiesto e qui ci ricolleghiamo a tutto quello che hanno detto gli altri tre relatori in particolare il tema delle ferie non usufruite dei permessi non usufruiti quando è stato introdotto lo smart working era uno di quei KPI che in genere le organizzazioni non misuravano ma poi andavano a conto economico quindi a giugno il finance di qualsiasi organizzazione dicevo ragazzi stiamo mettendo a conto economico stiamo accantonando un sacco di soldi è un problema quindi che cosa ci hanno richiesto cioè noi su queste 240 organizzazioni ci hanno detto noi vogliamo un sistema di HR dashboard come prima richiesta quindi noi vogliamo avere sott'occhio le metriche vogliamo poter monitorare i fenomeni capire qual è l'impatto sull'organizzazione un altro aspetto è stato quello e qui mi sposo con tutto quello che abbiamo detto fino adesso la mappatura dei bisogni delle persone in relazione alla flessibilità organizzativa cioè creare quel balance quell'equilibrio tra quelli che sono gli obiettivi delle imprese e quelli che sono i bisogni dei collaboratori all'interno delle organizzazioni e come terzo punto è stato proprio l'attuazione di un piano di welfare e work life balance quindi è vero sì che non hanno scelto o hanno cliccato pochissime volte le nuove modalità di lavoro ma probabilmente non perché chiaramente noi in questo momento stiamo ponendo le giuste domande non piuttosto che dare delle risposte però il tema è probabilmente in una scala di priorità per poter accedere a queste nuove modalità di lavoro ho bisogno di un sistema che mi permetta di monitorare qual è l'impatto sull'organizzazione e probabilmente il futuro sarà proprio quello è chiaro che di smart working non ne abbiamo parlato ma c'era una domanda all'interno della survey che è stata selezionata zero volte su 240 intervistati hanno avuto la possibilità di selezionare cinque opzioni questa non è stata mai selezionata ed era training per il remote working quindi probabilmente il concetto dello smart il concetto della flessibilità sotto certi aspetti è dato per scontato mentre mi sembra più un ritorno alla base per un sistema di misurazione di osservazione dell'impatto organizzativo ecco sistema di misurazione dell'impatto organizzativo e qui ritorno dal professor Solari ovviamente bisogna considerare una doppia variabile cioè quella dell'impresa e quella dei lavoratori noi tendiamo e lo dico proprio per il dibattito giornalistico a focalizzarci soprattutto sulle ricadute che la flessibilità organizzativa lo smart working la settimana corta ha su il lavoratore i benefici naturalmente in termini di riduzione dello stress la possibilità di incrementare il tempo da dedicare alla cura dei familiari dei propri interessi e così via ma lato azienda ecco abbiamo delle evidenze perché si dice che se il lavoratore è più felice produce anche di più è solamente una frase o dal punto di vista proprio statistico numerico c'è una base di verità le aziende beneficiano della flessibilità organizzativa la domanda in realtà ha una risposta ambigua ci sono condizioni organizzative nelle quali la soddisfazione del lavoratore ha un impatto positivo sui risultati altri in cui questo non accade ora se circoscriviamo però il tema al ridisegno dei processi organizzativi in una logica di flessibilità allora nell'ambito di questa specificità quello che oggi abbiamo come disponibilità effettiva di ricerche ci dice che è proprio la modifica delle condizioni organizzative in generale che può avere un impatto sia sulla soddisfazione che sulla produttività o comunque sui risultati aziendali quali sono gli altri vantaggi per un'organizzazione ce n'è uno che è inutile nascondere e che è legato prevalentemente alle difficoltà anche di attrazione oggi sul mercato e quindi c'è un impatto difficile da quantificare e misurare ma che entra nell'area della reputazione aziendale essere considerata ovviamente questo riguarda più forse le grandi organizzazioni ma a livello di sistemi locali può riguardare anche piccole e medie imprese perché poi dipende dalla partizione del mercato del lavoro dicevo un'organizzazione che sia considerata nota e che in qualche modo renda visibile questa sua capacità di generare contesti organizzativi flessibili tende ad essere preferita questo devo dire in maniera non equivoca abbastanza evidente c'è una seconda condizione interessante che un po' riprende lo stupore nella ricerca di cui parlava Massimiliano nel momento in cui si lavora sulla flessibilità in maniera non solo reattiva c'è la necessità per l'organizzazione di porre mano alle scelte organizzative interne questo è un tema per il nostro paese importantissimo tutte le analisi comparative sui modelli organizzativi a livello europeo dimostrano che il nostro paese nel complesso è arretrato da noi sono molto poco diffusi i modelli più recenti ma non sto parlando di quelli contemporanei già solo l'adozione di sistemi basati su logiche Lean nel nostro paese nelle realtà manufacturing è pesantemente indietro rispetto al resto dell'Europa e una delle posizioni che molti anche nell'ambito dell'economia sostengono è che questa sia in realtà la vera radice del ritardo di produttività del nostro paese e non solo i temi legati alla rigidità del mercato del lavoro e della contrattazione c'è un terzo elemento possibile di vantaggio la flessibilità e il ridisegno dei processi organizzativi ha un impatto importantissimo sulle figure di coordinamento qui non parlo dei top manager ma parlo di tutte le figure di coordinamento dai capi reparto ai manager ai coordinatori di unità complessa in un ridisegno delle attività secondo logiche di flessibilità queste figure devono trasformarsi devono tipicamente imparare a gestire sulla base di obiettivi e non sulla base di un semplice orientamento al compito al controllo ma devono anche acquisire una capacità di motivare le persone attraverso delle logiche di costruzione di team differente poiché anche questa è un'area di pesante ritardo nelle nostre organizzazioni nelle quali spesso abbiamo situazioni magari anche solo isolate ma di importante tossicità nella gestione quindi persone che pur essendo competenti tecnicamente non sanno gestire altre ecco una iniziativa come questa può dare un beneficio perché può portare le organizzazioni a capire che un investimento sulla qualità delle competenze di supervisione può avere un impatto importante poi sulla qualità in generale del lavoro certo io torno a questo punto proprio a partire dalle sue riflessioni al dottor Fissore perché questo è lo scenario macro che il professor Solari ci ha descritto poi dobbiamo calarci nelle realtà aziendali il professore ha descritto i vantaggi dal punto di vista dell'organizzazione che possono nascere da una maggiore adesione alla flessibilità e alle nuove forme di organizzazione poi c'è anche tutto il tema della misurazione e qui ecco le chiedo dottor Fissore come si arriva a misurare perché so che voi avete rinunciato a dati KPI dal punto di vista quantitativo mentre avete privilegiato la soluzione qualitativa ecco dalla vostra esperienza come si arriva a capire fattivamente se il beneficio è reale o meno beh allora non userei la parola rinuncia perché mi ricollego a quanto ho detto poco fa c'è ancora una difficoltà noi non abbiamo rinunciato ad oggi non è ancora così semplice da un punto di vista oggettivo andare a misurare la produttività soprattutto su un perimetro di popolazione come può essere il perimetro impiegatizio però è un qualcosa che sarà sempre nei nostri radar e non appena ci saranno delle delle modalità facilmente applicabili sarà un interesse anche della nostra azienda a capire meglio a livello di produttività quelli che sono i risultati ragioniamo diciamo al contrario noi non abbiamo visto cambiare la produttività delle nostre persone noi sostanzialmente dal 2017 non abbiamo visto modifiche anzi abbiamo visto vantaggi lasciamo perdere i vantaggi durante la pandemia per cui essendo partiti con anticipo dall'oggi al domani in mille persone hanno smesso di venire in ufficio e hanno continuato ugualmente a lavorare da casa senza grandi difficoltà da un punto di vista tecnico e culturale noi quello che abbiamo fatto è stato un privilegiare sicuramente una valutazione qualitativa parlando di smart working parlando di flessibilità all'interno di survey periodiche che non soltanto su temi di questo tipo ma anche su temi più allargati che vengono toccati indirettamente dalla flessibilità siamo riusciti a raccogliere l'opinione delle nostre persone non dimentichiamo anche che tutte queste iniziative nella nostra azienda sono state prese di concerto con i sindacati per cui i rappresentanti sindacali sono un importantissimo termometro del ritorno qualitativo che queste iniziative hanno sulle persone e in particolare sui venerdì brevi in questo periodo il ritorno è estremamente positivo anche lato sindacale vi ho raccontato un po' quello che è il nostro impianto dei venerdì brevi devo ammettere che inizialmente qualche perplessità c'era da parte delle persone e qualcuna anche da parte dei sindacati oggi è tutto ribaltato dopo neanche un anno perché la buona riuscita del progetto pilota dell'anno scorso ha fatto sì che le persone si affezionassero a questa modalità organizzativa e quello che abbiamo dai sindacati è un ritorno estremamente positivo e anzi un desiderio di accrescere questa flessibilità ovviamente l'ultimo elemento che ci consente di valutare queste iniziative come positive con un ritorno efficace sull'azienda è quello che diceva il professore poco fa il ritorno tra virgolette di immagine per cui su un mercato del lavoro sempre più complesso su un mercato del lavoro dove noi non siamo a Milano stiamo non lontano ma siamo in un'altra città che è Torino in un'altra regione dobbiamo riuscire ad attrarre e a trattenere i talenti che lavorano da noi sicuramente un impianto flessibile di questo genere ci apre le porte a mercati del lavoro diversi certo ecco la reputazione aziendale molto importante sicuramente col puntare sulla flessibilità è un qualcosa che può aiutare in fase di attrazione dei talenti e anche della famosa retention che è un altro tema insomma di grande attualità lei dottor Fissore nella risposta mi ha fatto un assist involontario per passare all'avvocato Failla parlando di adesione del sindacato perché certamente abbiamo visto che le imprese abbiamo citato i casi di grandi gruppi come Lamborghini Luxottica Intesa Lavazza anche si muovono indipendente in modo indipendente però è altrettanto importante che ci sia un'adesione da parte del sindacato ecco in che fase siamo rispetto a questo ma io credo che la pandemia abbia costituito uno spartiacque proprio culturale culturale anche nell'atteggiamento e nelle relazioni industriali ciò che prima era difficile impossibile irrealizzabile oggi è realtà oggi è realtà ma perché la pandemia ci ha costretto a dei cambiamenti forzati di organizzazione del lavoro e di mentalità prima del 2020 parlare di smart working in azienda era una roba molto complicata non solo complicata voglio dire internamente perché diciamocelo non è che le linee erano così felici i responsabili di reparto erano così felici all'idea che i propri dipendenti i propri collaboratori lavorassero da casa da remoto ma come non li vedo non li tocco non so cosa fanno adesso non è tutto diverso ma anche le organizzazioni sindacali si temeva che questo fosse un modo di parcellizzare di atomizzare come dire la forza lavoro e quindi se non siamo tutti insieme siamo più deboli e c'era questo timore fortissimo io me lo ricordo discussioni feroci anche con le organizzazioni sindacali ma voi volete disarticolare adesso sono le organizzazioni sindacali che chiedono due giorni ne vogliamo tre tre ne vogliamo quattro e la difficoltà è delle aziende che ancora non sono andate su questa direzione che dicono no ma io vorrei che tornassimo tutti a lavorare come prima lì la difficoltà quindi siamo in questa fase i ruoli sono un po' ribaltati c'è molta più facilità oggi da parte delle organizzazioni sindacali a comprendere e a portare avanti mi pare che addirittura nella piattaforma lo leggevo qualche giorno fa dei metalmeccanici c'è la richiesta della settimana corta piattaforma nazionale di rinnovo del ccnl dei metalmeccanici c'è la richiesta di avere i quattro giorni lo diceva prima benissimo professor Solari evidentemente se io a parità di denaro lavoro di meno è evidente che la mia ora lavoro vale di più in una situazione in cui ci sono meno soldi da distribuire ci portiamo a casa qualche cosa lavoro di meno no? lavoro di meno quindi siamo in questa in questa fase l'adesione dell'organizzazione sindacale è fondamentale è ovvio per la bontà dei progetti e l'adesione dei lavoratori perché poi quando si toccano la riduzione in tutto in parte delle ferie dei permessi eccetera si vanno a toccare i diritti dei lavoratori quindi ci vuole l'adesione anche giuridica come dire del singolo lavoratore l'adesione del sindacato non basta ci vuole l'adesione ma che poi è la leva questo ce lo insegnano tutti gli esperti di organizzazione è la leva per la buona riuscita dei progetti cioè il convigimento il portare a bordo e quindi sì che questo progetto che parte dall'azienda diventi un progetto condiviso un progetto anche delle organizzazioni sindacali anche dei lavoratori io credo che siamo sulla strada giusta quindi anche l'adesione su base volontaria è fondamentale 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 che è un tema culturale prima perché lì si arriva quando c'è la fiducia nel progetto aziendale questa è una cosa che mi porta qualcosa di buono all'azienda ovviamente ma anche a me allora a quel punto c'è la condivisione certo Massimiliano torno da lei perché abbiamo parlato fino adesso di accordi siglati appunto da grandi gruppi li abbiamo citati più volte però abbiamo ricordato anche all'inizio nell'introduzione della tavola rotonda che in realtà il tessuto economico italiano è formato soprattutto da piccole e medie imprese e io quindi ecco le chiedo se i casi virtuosi di Lamborghini di Luxottica di Intesa rappresentano una sorta di eccezione o se invece possono segnare la via per far sì che ecco questo nuovo modello si diffonda un po' in tutta la penisola dobbiamo augurarci che siano gli apripista quindi quelle organizzazioni che hanno quella forza interna di poter sperimentare perché un tema fondamentale e qui Luca Solari l'ha detto all'inizio parlando di PMI sono sicuramente una risorsa ci sono delle PMI che però non hanno la forza e la possibilità di poter sperimentare quindi la sperimentazione ce l'aspettiamo da aziende strutturate che hanno oltre che una forza contrattuale anche una voglia di innovare di comunicare cose nuove quindi è chiaro che questo deve essere una privia anche per le PMI però dobbiamo mettere le organizzazioni nelle condizioni di avere gli strumenti giusti per poter fare determinate scelte e quello che stiamo riscontrando giornalmente è un po' un cercare di ritornare ai basic cioè di avere l'infrastruttura minima che ci permetta di prendere le decisioni la pandemia è stato uno spartiacque indiscutibile quindi da quel momento in poi magari è cambiato il mondo cose che prima pensavamo ma che cosa stai dicendo non si può fare dopo la pandemia ma perché non si può fare è tutto possibile per definizione e anche questo è un rischio quindi il tema di poter mettere le organizzazioni anche quelle più piccole nella possibilità di avere gli strumenti giusti per poter prendere le decisioni a noi capitano ma anche delle domande molto banali cioè come faccio a misurare si parlava prima dell'acquisizione oppure del turnover eccetera attrition e attraction sono un gioco di parole per dire due fenomeni completamente differenti quindi mi metti nelle condizioni di capire chi se ne sta andando o chi sta entrando in azienda per capire che valore mi può portare e dove poterlo collocare all'interno dell'organizzazione e mi riesce a mettere nelle condizioni di conoscere la mia popolazione per poter lavorare nella maniera più corretta è un po' quello che si diceva non abbandoniamo l'indicatore quantitativo ma cerchiamo di sposarlo e correlarlo con quello qualitativo quindi magari possiamo spostare la stricella più sulla parte qualitativa ci sta ma avendo sempre sotto traccia quei 5 6 KPI o KR anche adesso è un tema su cui molte organizzazioni stanno ragionando che mi permettano di tracciare la rotta quindi io sto andando in quella direzione magari mi sposto un po' ma è uno spostamento che è consentito perché l'ho già messo in preventivo però capisco qual è l'impatto sulla mia organizzazione quello che noi dobbiamo fare è quello di permettere a queste organizzazioni piccole o grandi che siano perché spesso uno pensa siano solo le piccole che gli mancano i puntini ma ci sono delle grandi organizzazioni che non riescono a unire i puntini perché spesso si sente ancora di long covid da un punto di vista salutistico noi dobbiamo pensare anche qual è l'onda lunga del covid sull'impatto sulle organizzazioni che magari sta venendo fuori adesso e quindi adesso incominciano a crearsi un po' di situazioni da mettere sotto controllo l'onda lunga è un concetto fondamentale perché quando si parla di trasformazione si parla di un processo che non viene completato dall'oggi al domani ma che richiede una tempistica mesi addirittura anni però noi lo stiamo attraversando e ci stiamo arrivando ad una nuova forma proprio di concepire il lavoro io vi chiedo ed è una domanda che rivolgo a tutti gli speaker la domanda conclusiva di questa tavola rotonda se arriveremo mai proprio ad una destrutturazione del modello lavorativo per come l'abbiamo conosciuto fino oggi ovvero ecco un nuovo modello che sia completamente svincolato dal concetto di orario magari anche dal concetto di spazio quindi un lavoratore dipendente che però in sostanza si comporti come un libero professionista ci arriveremo mai parto dal professor Solari dipende molto dalla variabile tecnologica oltre che certamente da quelle che saranno le dinamiche sociali e politiche che l'accompagneranno nel senso che questo modello già esiste potenzialmente e si chiama DAO cioè Decentralized Autonomous Organization organizzazione autonome decentralizzate sono in realtà delle piattaforme che operano quasi esclusivamente però in ambiti molto dematerializzati quindi produzione di software piuttosto che servizi in ambito fintech nelle quali gli operatori le singole unità organizzative sono in connessione tra loro attraverso un'infrastruttura che di solito è basata su delle logiche di contratto Ethereum based quindi di fatto una specie di blockchain tradotto questo vuol dire che ognuno all'interno di questa rete contribuisce di solito con linee di codice con attività e si attiva uno scambio tra ogni parte del processo produttivo basato sul riconoscimento di una moneta virtuale interna ora questo tipo di modello ovviamente è un modello che porrà una serie di problematiche importanti in termini di regolazione in termini di regolazione in primo luogo dal punto di vista fiscale perché teoricamente io potrei avere una DAO che opera con persone che vivono stabilmente in paesi molto differenti tra loro e poi a quel punto come vado a valorizzare ma certamente anche dal punto di vista delle logiche del lavoro detto che il modello teorico esiste dicevo molto dipende dalla natura della tecnologia perché non dobbiamo dimenticare che il nostro modello organizzativo aggiungere il nostro modello di governance delle imprese è prevalentemente legato sul fatto che a un certo punto nella storia dello sviluppo economico il valore essenziale è stata la disponibilità del capitale investito quindi di fatto gli asset che servivano per costruire la grande impresa che poi ha dominato tutto il novecento hanno fatto sì che il rapporto strutturato tra capitale del lavoro e conoscenza che sono di fatto i tre fattori produttivi andasse in questa direzione oggi siamo in una fase di trasformazione importante ora è chiaro che dal punto di vista della tecnologia in essere quando il capitale la parte capitale intensive è meno importante diventa più importante quella knowledge intensive cambiano i rapporti interni e quindi io operatore che porto conoscenza del lavoro posso decidere di renegoziare la relazione in una posizione però di forza quindi quello che voglio dire è che questo potrà accadere in due modi differenti in alcuni ambiti attraverso un riposizionamento del valore sull'operatore sulla persona che chiederà a quel punto di uscire dai lacci e lacciuoli di modelli organizzativi basati sul controllo e questa sarà forse la parte diciamo dal punto di vista delle persone preferibile quindi con miglioramento delle condizioni soggettive dall'altro lato lo stiamo già vedendo il lavoro di piattaforma invece abbiamo situazioni ben diverse dove è un'ulteriore accentuazione del controllo da parte di chi a quel punto non solo controlla l'asset ma controlla anche la conoscenza di processo e che quindi a quel punto vede nel lavoro semplicemente un fattore produttivo che non vuole internalizzare perché è assolutamente indifferenziato quindi dovremmo capire quali tra queste due situazioni finirà per prevalere ma soprattutto dovremmo capire se queste due situazioni non configureranno una società che andrà ulteriormente a divaricarsi e questo in generale è qualche cosa che anche nel mondo del lavoro può essere preoccupante in logica di quittà non ci sono ovviamente solo i lati positivi ma dobbiamo considerare anche gli aspetti più critici Avvocato Fahila anche a lei chiedo un commento a partire ecco da questa considerazione del professor Solari cioè della tecnologia come driver fondamentale poi per capire e comprendere gli sviluppi futuri sì evidentemente tutti questi discorsi che stiamo facendo li facciamo perché la tecnologia è quella che oggi se la pandemia fosse avvenuta fosse arrivata vent'anni fa avremmo avuto grossissimi problemi a stare come dire a casa dal giorno un giorno con l'altro e riuscire a portare avanti l'attività lavorativa oggi la tecnologia è fondamentale io sono in questo senso credo che siamo già in questa direzione la settimana corta è la dimostrazione che stiamo andando stiamo un po' come dire lasciando il concetto classico del contratto di lavoro dove io compro delle ore e poi cosa succede in quelle ore è una variabile a volte indipendente dalla mia volontà se sono bravo ho un certo risultato se i lavoratori lavorano con me abbiamo tutto un rendimento se no invece il rendimento il risultato ce l'abbiamo sotto le aspettative stiamo andando in quella direzione perché la domanda che ci dobbiamo fare è perché un'azienda sarebbe disponibile può essere disponibile a pagare lo stesso prezzo per avere meno ore lavorate è una domanda a cui normalmente la risposta è ma sei matto invece la risposta è sì se in quell'accordo c'è una garanzia sul rendimento ottenuto quindi di fatto il tema della produttività e del rendimento diventa un tema congiunto cioè siamo d'accordo lo scambio è una fiducia è questo e quindi si va lo dico provocatoriamente dalla settimana corta alla giornata corta perché no quante aziende sarebbero disposte anche a dire vuoi uscire prima del tuo orario di lavoro le sei le cinque e mezza le quattro se alle tre tu hai finito quello che io ragionevolmente mi aspetto che tu faccia in quella giornata di lavoro perché no perché no andiamo verso quella come dire il risultato per cui il part timer di fatto è più produttivo perché deve fare più cose in minor tempo quindi io credo che stiamo andando in quella direzione e ovviamente non abbiamo bisogno di nuove leggi però stiamo modificando dall'interno il concetto classico di lavoro subordinato di contratto di lavoro ore contro retribuzione stiamo andando sempre più ad inserire il tema del rendimento del risultato all'interno del contratto di lavoro classico e quindi stiamo un po' mescolando queste due figure del lavoro classico subordinato del lavoro autonomo dove io compravo un risultato penso che stiamo andando in quella direzione stiamo mescolando un po' le carte però bisogna vedere anche le aziende che cosa ne pensano perché ho detto prima c'è il sogno magari anche un po' lo stereotipo del lavoratore che può lavorare da ovunque molto spesso si citano le spiagge caraibiche senza più l'obbligo di timbrare il cartellino di rimanere imbottigliati nel traffico ma ecco c'è anche appunto un qualche aspetto critico negativo del non essere mai presenti in azienda quindi come bilanciare nel futuro queste esigenze contrapposte ma il punto è esattamente quello il punto è la mescolanza di cui parlava l'avvocato Failla almeno dal nostro dal nostro lato dal lato dal lato Lavazza e da quello che è la nostra visione nel medio periodo non mi soffermo su tematiche più alte come il lavoratore non più subordinato ma quasi omologato a un lavoratore autonomo non so se sarebbe auspicabile né per il datore di lavoro né per il lavoratore sono discussioni e riflessioni che si fanno da da lungo tempo quello che io credo che per noi possa essere una una via e che quella che abbiamo deciso di intraprendere è quella del lavoro ibrido noi crediamo molto in questa in questa in questa via tanto che è proprio di pochi mesi fa una hybrid working policy che abbiamo reso disponibile a tutte le consociate del gruppo nel mondo per dare una linea che dica assolutamente sì bilanciamo vita privata e vita lavorativa ma ad oggi per noi lo strumento migliore è quello di una mescolanza un mashup tra il lavoro da remoto e il lavoro in presenza con però un approccio diverso a quando per esempio il lavoratore si trova presente sul posto di lavoro viene in ufficio una volta noi eravamo abituati alle nostre scrivanie stiamo iniziando banalmente a fare un progetto di desk sharing con prenotazione della mia scrivania per quale motivo perché il lavoro ibrido porta tantissime modificazioni non solo nell'organizzazione del lavoro ma nell'organizzazione dell'impresa dei suoi spazi dei suoi tempi e noi andiamo in questa direzione andiamo in una direzione in cui con un occhio teniamo sotto sotto controllo quello che sono i nuovi trend quello che sono le vie della flessibilità con l'altro occhio però ci ricordiamo che comunque al momento anche la normativa ce lo impone il lavoratore è un lavoratore subordinato questo però non vuol dire lavoratore subordinato e siamo assolutamente d'accordo e allineati su questo tema non vuol dire lavoratore che prende un salario in cambio di tempo che mi sta dedicando o almeno non vuol dire solo più questo vuol dire un lavoratore che sente una mission che è la mission dell'impresa ha degli obiettivi che sono i suoi obiettivi e sono quelli dell'impresa e sente una responsabilità lavora anche perché sente una responsabilità e perché ce l'ha gli viene data e sicuramente questo è stato alla base dello smart working nel 2017 si è radicato e sarà la base per noi di ogni evoluzione di questo modello anche nel futuro dico nel medio futuro perché nel lungo visti i trend è un po' difficile fare grosse previsioni ma sicuramente col tema della responsabilità e della fiducia reciproca lavoratore impresa è un concetto chiave Massimiliano abbiamo parlato di lavoro ibrido di mescolanza di contaminazione sono queste le parole chiave per capire il futuro sicuramente sì e sicuramente due parole che sono state dette prima che sono partecipazione dell'organizzazione quindi sicuramente ci deve essere un imprinting organizzativo forte ma una responsabilizzazione dei lavoratori quando Luca Solari parlava di manager dicendo non ci sono solo i top manager ci sono la fascia dei middle manager che sono quelli che veramente agiscono l'organizzazione e che quindi danno un'indicazione di quella che dovrebbe essere la rotta se la comunicazione non è chiara non funziona se la domanda me l'avesse fatta due anni fa avrei detto sicuramente ci arriveremo in un attimo oggi la mia risposta è non lo so non lo so non so neanche per quanto tempo tra quanto tempo e con quali modalità ci arriveremo perché molte organizzazioni stanno da un lato cercando di non dico forzare le persone a ritornare in ufficio ma cercare di fargli vivere l'ufficio fargli vivere l'ufficio con tante modalità il desk sharing la creazione di spazi di supporto la creazione di aree anche family friends diciamo così perché le persone possono stare bene questo sicuramente è un tema perché ci siamo resi conto con la pandemia che lo spazio di cui abbiamo bisogno per lavorare è qualcosa di un po' più semplice rispetto a quello che pensavamo prima se prima del 2020 si stampava la procedura per leggersela da marzo 2020 siamo andati i paperless completamente quindi sicuramente c'è una direzione sicuramente da un punto di vista legislativo si sono fatti anche passi avanti da un punto di vista organizzativo anche ma riprendendo il concetto del DAO noi dobbiamo pensare a qualcosa che anche prima della pandemia già avveniva quindi la tecnologia abilitante molte organizzazioni multinazionali che hanno dei business con fusi orari differenti il capo del business asiatico di un'azienda italiana lavorava la notte perché? perché i mercati erano in orari non tradizionali quindi sì probabilmente quella sarà la direzione onestamente non so dire quando ci arriveremo e come però ci arriveremo va benissimo perché questo ci porta a rinnovare l'appuntamento quindi anche l'anno prossimo visto che è difficile fare previsioni nel lungo termine noi abbiamo annualmente questi appuntamenti che ci permettono di fare il punto e di vedere pian piano qual è l'evoluzione e dove stiamo arrivando quindi sarà un piacere avervi di nuovo con voi io vi ringrazio naturalmente per gli spunti che ci avete offerto questa stamattina ringrazio il professor Luca Solari l'avvocato Luca Failla il dottor Gianmarco Fissore e il dottor Massimiliano Santa Maria grazie davvero per essere stati con noi grazie a tutti grazie a tutti